Sulla sostituzione etnica, io l'ho già detto ieri, lo ribadisco qui, sono parole che ci si aspetta di sentire dai suprematisti bianchi e non da un ministro della Repubblica Italiana. Mi auguro di sentire una presa di distanza molto netta da parte di Giorgia Meloni e del resto del Governo. Perché, come si diceva, io non sono scivoloni, perché quando ce n'è uno, poi un altro, poi un altro ancora, da parte di ministri e di altri esponenti della maggioranza o dalle più alte cariche dello Stato, diventa uno schema. Diventa uno schema. Dopodiché, non è che io sia felice di dover rispondere tutti i giorni alle bestialità che dicono, intendiamoci. Preferirei che non le dicessero. E al ministro Lollobrigida che dice, ah, perché mi attaccano perché non hanno proposte, ho una bellissima proposta per lui. Non dica bestialità di questo tipo. Noi saremo più felici. Noi saremo più felici. Perché possiamo continuare a concentrarci sulle nostre battaglie di opposizione principali, che non sono sulle espressioni dei ministri e delle più alte cariche dello Stato, ma sono PNRR, salute, lavoro, economia, migrazione, diritti. Ecco, vorremmo continuare a concentrarci su questo. Basterebbe che la smettessero di dire cose di questo tipo e di fare tentativi di riscrivere la storia e la memoria del nostro Paese. Grazie.